bella a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video siamo i TheFriends e oggi siamo con il solito mostruoso ritardo di Francesco siamo qui sulla server di Minecraft ok raga lo vedete più fluido dell'altra volta perché? perché semplicemente aveva un problema BS vabbè fra me ho sbatto delle impostazioni adesso le ha sistemate e si vede come si vedeva allora siamo qui per allora come potete vedere è buia e quando sono arrivato io c'erano tre amici miei ovvero tre bei gli scheletri Nico facciamo così se mi dici di lavorare ho già dell'arenaria da consumare allora tu hai dell'arenaria? eh ci sto pensando tipo potremmo fare adesso io uso della pietra per indicare più o meno per vedere un attimo le misure ok quindi adesso iniziamo a lavorare base così si sto tutto improvvisando se non si capiva no assolutamente no poi no non volevo sei un po' qui e invece hai fatto bene eh ma lo sai che no? che stava cendo notte infatti oh notte c'è un problema ah ok il letto ce l'hai c'è un problema il letto è lì fra ah ok io sono proprio davanti all'entrata bello così i creepers verranno tutti da te si no non c'è nessuna meno male ok poi vediamo no tua amica proprio non c'è da un cazzo ok vediamo magari provare a fare così è tutta improvvisazione no ma non si vede no così mi fa un po' cagare aspetta tutto improvviso alzane uno no non con i blocchi con le slab eh io penso e mi sa che ne devi fare altro perchè no ma già così basta e poi inalzare ah ma tu e poi inalziamo la colonna normale aspetta aspetta stai tranquillo ma qui andrebbe a finire però secondo me il piedistallo viene un po' troppo grande oh cioè ma lei non guardi troppo sto guardando cosa cazzo ti devo dire che cazzo vuoi fare con queste slab aiuto questa no no ok ce l'ho fatta ma che merda è hai ragione aspetta ma leva tutte quelle slab che hai messo là sopra no 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 aspetta è un cazzo pillaro improvvisato ma no ma fa un culo ma tu eri ancora sopra un blocco che cazzo vuoi eh grazie minecraft sopra la mia testa grazie minecraft i tuoi rumori sempre più rassicuranti forse sarà il caso che con sta poco arenaria mi inizio a fare un po' di slab no venire no a fendere sabbia eh no non volevo spaccare la piramide no minecraft ok faccio 8 ho 18 slab per adesso ok ok ammetto che la mia idea là è un po' è un po' bravissimo come hai fatto a capirlo la madonna vabbè scusami eccomi ma cos'è acqua ma 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 che qui c'è un bug grafico poi gli ti bug di merda no non è un bug che c'è ombra ah no cazzo ma è un bug cazzo dici ma ma così non è più una piramide dentro ma ma scusa le piramide non stanno insieme per forza divina eh cioè proviamo a fare una cosa così così già mi sembra un pochino migliore no vabbè effettivamente ok intanto intanto mi sono fottuto una slab gratis eh vado a raccogliere un altro po' di sabbia eh sì io vado avanti a fare le piramide cioè fare i blocchi ci siamo eccoci qui ok raga dopo 70.000 problemi perché un video di The Friends non è un video di The Friends non ci sono problemi eccoci qua come potete vedere abbiamo già fatto tre calonne colonne tre calonne allora le calonne ma il primo problema è stato che per la mia connessione che non so l'ho persa per un attimo e quindi era tutta puttane vabbè poi abbiamo scoperto che queste colonne qua non erano geometricamente a posto geometricamente queste due quest e quella che dovrebbe esserci là quella che non c'era più no no merda no stavo per indicarti con la freccia ah certo e quindi stiamo ricostruendo tutto anche io ti sto indicando con la spada ok basta ma perché così mi sembra non lo so eh ma così mi sa mi sa che è sbagliato di uno ma sai anche a me ma porca di quella c'è uno slab ok adesso è uguale identica perfetto chi ha qualcosa il contrario nessuno vero ok ok non vediamo che la minaccia la tua morte se avessi detto ma guardate che non è giù ma tanto voi non avete nessun diritto di parola quindi no poverino se non ve lo dassimo voi non li cagate quindi si infatti clash of clans fa addirittura 43 visual tipo si è un commento nemmeno uno cazzo commentate cioè non mi chiediamo di non mi chiediamo di nico ma che cazzo stai facendo scusa ma lo facevo io tu sei no stai fermo stai fermo non fare da hai giusto ma perchè metti le slab metti a me vanno più comode le slab si fa quel cazzo che ti parla no tu non c'entri niente ma questo è giusto è giusto ah già scusi sorry ok adesso slab qua slab qua slab qua no slab piazzati qua qua e ce l'ho fatta ok siamo anche a poco signori adesso adesso questa è la notte si nico ma lo sai che siamo aspetta un attimo non lo voglio sapere lo vorrei sapere io così puoi decidere se suicidarti subito dopo esatto ah ok tu sei una brava persona grazie perfetto basta è bellissima è su mac no qui manca un pezzo ui no ma sto registrando sto registrando si grandi dubbi ma sto registrando e sono perfette chiunque abbia dubbi cazzi suoi può anche crepare male eh io non lo vorrei dire ma con questa affermazione probabilmente abbiamo appena perso 36 iscritti no no di meno perché ci siamo noi ma no vabbè no cioè nel senso no nel senso dai nel senso è beautiful dopo questa affermazione fra stop al video andiamo un attimo a casa a prendere un scusa 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 mi hai scaraventato in timbac in timbac tu ok fra stop un attimo al video perché andiamo a prendere una cosa a casa ciao dopo papà 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 si fate che non so ti sto accendo a notte veloce non so da dove arrivi arrivo da dove sono partito ma no ho preso della pietra luce e ho fatto cosa ho fatto arrivi da dove sono partito è perché io ho cagato te che sei partito ok mi sono scibato il video sta andando si eh quanti metri ti mancano si si 180 cazzo sta è notte è notte oh che cazzo è ho perso un cuore non so come ehm fra gli alieni in minecraft prossimamente muoviti se non iniziano a spawnare ti vedo non so come cazzo ti faccio vedere probabilmente è dentro la piramide però grazie al non caricamento della mappa no sono caduto fare la merda no no te dimostri iniziano a spawnare nico di la tuta non ve lo nessuno nico corri lo stesso dai 50 metri 50 metri non è l'entrata iniziano a spawnare i pipistrelli ehm ma quello lì è un po' normale io mi metto nel mio letto solito ok ce l'ho fatta campione del mondo ok raga ma adesso dovrei andare la sopra ehm ok lo metto ma scusi ma nelle piramidi solitamente nelle piramidi solitamente non ci non c'è il legno non c'è della glowstone ops non ci sono non ci sono i lampadari che cazzo è una piramide moderna esatto ci siamo aggiornati ma molto moderna però perché la glowstone non c'è neanche adesso non conosco una pietra non conosco una pietra che fa luce propria oltre alle stelle non penso che la glowstone sia pezzi di stelle e sto lampadario mi fa un po' schifo un pezzi di merda buona basta va bene così l'hai fatto il lampadario non rompiamo i coglioni e tu che dicevi che non bastava non so perché ma mi fa leggermente cagare ma a me faceva cagare già dall'inizio ebbene sta piramide qua via fra via togliti una parecchia si oi sta piramide qua non la vedrà mai nessuno perché sta piramide non la vedrà mai nessuno che cazzo dentro ci saranno solo le mummie ah giusto ci vanno fare la mummia aspetta che cazzo dici aspetta fra vieni mi sono mangiato delle slab aspetta facciamo più o meno qui togli via stile vabbè lascia i letti sono un ricordo 1 2 3 1 2 3 poi ci mettiamo questo no culo non è mai minchia non si può fare centrale così facciamo così facciamo così ma che cazzo ok siamo a posto qui ci già 1 367 guarda che tu t'acamo nel avanti cristo questo è perché noi sappiamo tanto tanta storia davvero via se non vuoi diventare una mummia come quell'u'lì ma davvero lo muri ok quindi gli intendi sta piramide non li vedrà mai nessuno nessuno perché voi raga non avete non avete visto dai che mi becca dai che mi becca dai che mi becca non mi so non mi è arrivato un messaggio su whatsapp come sembra ok quindi raga se il mio piaciuto commentate iscrivetevi e quando sentite non stiamo sentendo un cazzo non stiamo sentendo una beata minchia ok quindi raga no fermo fermo ti stoppo ti stoppo ti stoppo ma in tutto ciò lampadari che cazzo che cazzo ne abbiamo fatto quindi raga il mio piaciuto commentate iscrivetevi e provate a imparare a non fare domande di cui non vuoi sapere una risposta quindi se d'ora in poi quando passeremo di qui sentiremo rumori molessi sarà tutto un camon che si starà svegliando e noi ci vediamo questa volta con un nuovissimo video brava raga che te ne è oh stronzi minchia quattro cuori ciao oh oh